Stiamo lavorando ovviamente per cercare di costruire una squadra forte, quindi piano piano porteremo a casa quello che ci servirà e piano piano capiremo la nostra dimensione. Se sono riuscito a passare il ritiro dello scorso anno in questo momento mi sento ancora più tranquillo perché tutti quanti sappiamo come sono le dinamiche del mercato, tutti quanti sappiamo che è molto molto difficile riuscire a lavorare anticipatamente. Sicuramente il mercato poi ufficialmente è stato aperto il primo di luglio e so bene che ci vorranno dei tempi un po' più lunghi, il direttore sa bene quello che vuole, lo ha già dimostrato lo scorso anno, a maggior ragione questa è una categoria che conosce, che ha già fatto, la conosce sicuramente meglio di me. Noi siamo persone competitive, chi è competitivo è per cercare di essere competitivo ai massimi livelli, quindi noi partiremo ogni domenica per provare a vincere ogni partita, poi ci saranno gli avversari, poi ci sarà il valore che siamo riusciti a raggiungere, il valore attraverso gli allenamenti, attraverso lo spirito di squadra, lo spirito di sacrificio e poi vedremo. Ma dirlo in questo momento secondo me non ha un senso, io credo che persone come noi, per come conosco il presidente, per come conosco il direttore, io penso che quando intendano competitivi si intende competitivi veri.